di alcune progressioni geometriche. Allora, per fare questo dobbiamo utilizzare una variabile perché la progressione geometrica che andremo a realizzare, partiremo da un quadrato, andremo a realizzare 5 quadrati, ogni quadrato avrà un lato sempre più lungo. Allora, andiamo su variabili e creiamo la nostra variabile che chiameremo lunghezza lato. Questa volta lo scrivo in questo modo. Benissimo. Dopodiché dobbiamo definire la lunghezza del lato proprio all'inizio. Bene, portiamo il porta lunghezza lato, diciamo di utilizzare una lunghezza di 40 e a questo punto abbiamo detto che facciamo un quadrato, il quadrato sappiamo che è 90 gradi. Nella lunghezza del lato dobbiamo utilizzare la variabile che abbiamo appena creato. In questo modo il primo quadrato che verrà disegnato sarà lungo 40. Se noi proviamo, ecco qui il nostro piccolo quadrato. Bene, a questo punto dobbiamo però fare più figure geometriche, abbiamo detto 5 figure geometriche. Allora, torniamo in controllo, prendiamo un altro ripeti e questo ripeti lo usiamo in modo tale che ci prenda dentro i blocchi che ci permettono di costruire la figura geometrica, quindi dal penna giù al penna su. Diciamo, ripeti 5 volte, ma dobbiamo anche aumentare il lato. Quindi andiamo ai variabili. Diciamo cambia, lo portiamo subito dopo penna su, diciamo come al solito, lunghezza lato e diciamo di aumentare il lato di 20. Quindi avremo il primo di 40, il secondo di 60, 80 e così via. Anzi proviamo subito a lanciare il nostro piccolo script, vediamo cosa succede. Eccolo lì. Tenete conto che ogni quadratino è 20, quindi i nostri 5 quadrati e qui. Eccoli qui. E l'ultimo quadrato. A posto. Vedete? Sposto un attimo la matita. Ecco qui la nostra progressione geometrica. Se vogliamo possiamo anche fare questa cosa. Andiamo in penna, utilizziamo il cambio a colore penna di 10, lo posizioniamo subito dopo la lunghezza del lato, gli diciamo di cambiare il colore della penna di 20 sulla sua tavolazza colore e vediamo cosa succede. Il primo quadrato è rosso, sempre di 40, un altro quadrato sul verde, un verde, un verde ancora un po' più scuro e quindi un blu e vediamo l'ultimo. Eccolo qua, un altro. In questo modo abbiamo la possibilità di diversificare i quadrati vedendo quali sono le varie progressioni geometriche. Un invito che potreste provare è fare il contrario, partire da quello più grande e arrivare a quello più piccolo. Mi lascio a voi questo piccolo esperimento. Vediamo un altro tipo di progressione. Una progressione geometrica che quando la realizzo in classe sia con i ragazzi che con i docenti si divertono a un mondo. Ed è la realizzazione di un mandala. Allora, il codice non cambia più di tanto rispetto a quello che abbiamo realizzato. Facciamo in questo modo. La lunghezza del lato intanto la impostiamo a 80, in modo tale da partire un po' più bassi. Faremo 36 figure geometriche, tutte su un angolo giro. Quindi se diciamo che questa è la ripetizione che dobbiamo utilizzare per definire quante figure geometriche vogliamo fare, a questo punto io direi di fare un pentagono. La lunghezza del lato l'abbiamo definita sopra, il pentagono sappiamo che dobbiamo utilizzare il 72 gradi. Vi do un piccolo consiglio. Abbassate l'attesa a 0.1 in modo tale da riuscire a vedere la composizione del lato ma anche il fatto che non ci piega tantissimo perché altrimenti sarebbe un secondo per 5 secondi per ogni figura, prendete 6 figure e quindi diventa lunghissima la realizzazione. Fatto questa cosa, noi possiamo sostituire, anzi dobbiamo sostituire il cambio a lunghezza lato, che in questo caso non ci serve, con un altro blocco. Questo possiamo riposizionarlo interno, questo lo eliminiamo, andiamo in movimento e diciamo di ruotare, dopo ogni figura di ruotare di 10 gradi. Se non mettessimo questo blocco cosa succede? Creiamo la figura e rimarrebbe sempre lì, conterebbe a disegnare sempre lo stesso punto. In questo modo invece creiamo la rotazione. Ultimissima cosa, la dimensione della penna la riportiamo a 1 o 2 se preferite, in modo tale da vedere meglio cosa viene realizzato. Facciamo partire la nostra realizzazione. Ecco qui il nostro piccolo mandala. Lo fermo un attimo, facciamo una correzione, vedete che naturalmente è partito dal punto meno 60, meno 60. Noi vogliamo farlo partire dal centro, quindi possiamo direttamente nel codice posizionarci qui e dire 0, 0, senza dover andarlo a modificarlo qua. Non avremo linee in più, vediamo, eccolo, anzi la linea in più ce l'abbiamo, è vero perché abbiamo interrotto prima, ma se noi adesso rifacciamo ripartire, vedete che la linea non c'è più. Parte sempre dal pentagono rosso e via via poi farà la sua successione. Ogni volta che andremo a disegnare il mandala, il mandala sarà sempre uguale perché partirà sempre dal rosso, scatterà di colore, cambierà il colore penna di 20 in 20 e quindi arriveremo sempre alla fine. Un piccolo suggerimento, se cambiate il numero delle ripetizioni, tipo se lo portiamo a 18, l'angolazione ad esempio dovrà essere 20, c'è sempre il rapporto tra angolo giro e numero delle figure. Questo se volete delle figure perfette. Naturalmente nulla vi vieta di provare a giocare successivamente con il numero delle ripetizioni e con angoli diversi a vedere cosa succede. In modo tale che ad esempio facciamo un esperimento, gli dico, ripeti 88 volte, ma l'angolo di rotazione, anzi 88 volte, 4 lati, anziché dare una rotazione di 72 gradi, diciamo 89, quindi non chiuderà mai il quadrato. Vediamo cosa succede. Vedete che il disegno cambia e otteniamo, adesso avremo una sovrapposizione ancora, però vedete che rispetto alla progressione geometrica del mandala precedente è diversa. Io vi invito a provare a realizzare queste progressioni prima con le figure geometriche regolari e poi a provare, provate sia voi ma poi provate anche in classe, a giocare un po' con i numeri, con questi angoli, anche con angoli che superano i 360 gradi. In fin di conti, come abbiamo visto anche nella costruzione dell'orologio, sappiamo benissimo che se noi scriviamo 361 o 370, il nostro scratch farà un angolo giro più 10 gradi, quindi ruoterà di quei 10 gradi in più. Provate, sperimentate, mettete anche dei numeri a volte anche a caso, come fanno spesso gli allunni con cui lavoro, perché a volte mettendo dei numeri a caso a volte nascono delle figure interessanti e si scoprono dei rapporti anche interessanti tra angoli, lati, figure geometriche. Bene, vi lascio con un'ultima cosa. Sul mio profilo, se cercate il mio profilo, troverete diversi lavori fatti con questo tipo di geometria. Io ho realizzato una galleria che si chiama proprio Geometricando, dove trovate diversi esperimenti fatti proprio con la penna, il disegno, in alcuni casi utilizzando la microbit, insomma, dei lavori, ad esempio questo è fatto da un mio alunno, dei mandala concentrici, quindi con più mandala, giocando con le variabili, insomma, ci sono diversi esperimenti. Lascio a voi, se volete consultare, sperimentare e guardare questa galleria.